L'asino, i gatti e la torta. Due gatti, che avevano fama ad essere molto astuti, avevano rubato una torta che una donna aveva messo sul davanzale a raffreddare. Soddisfatti del bottino, leccandosi i baffi, i due avevano cercato di prendere accordi per spartirsela. La divideremo a metà, ovviamente, disse un gatto, che subito sfoderò un artiglio e divise la torta a metà, o quasi. Ehi, credi di farmi fesso? La tua metà è più grande e ha tutta la farcitura, si indignò l'altro gatto. Ma che dici? Non essere sciocco, è la metà perfetta. Solo che tu, a differenza del sottoscritto, non hai studiato niente di matematica e geometria. Geometria o non geometria, la farcitura te la pappi tutta tu. I due stavano ancora litigando quando, attirato dai miagolì, si avvicinò a un asino, con la testa bassa e l'espressione modesta di chi passa di lì per caso. Amici gatti, mi pare di capire che qui la questione riguarda la divisione di una torta. È una faccenda ben delicata, ma forse posso aiutarvi, se permettete. E come sentiamo, sentiamo, dissero i gatti, già convinti di poter sgraffignare qualcosina a quell'ingenuo di un asino che si era intromesso. In effetti, a mio modesto avviso, rispose l'asino con timidezza, le parti non sono uguali. Ecco, vedete? Se invece mangio un pezzettino della fetta più grande? Così. E così dicendo, si sbaffò un bel pezzo di farcitura ancora tiepida. Così, dicevo, le parti dovrebbero essere perfettamente uguali. I gatti osservarono attentamente la divisione. E no, asino che non sei altro. Vuoi insegnare le divisioni a noi? Scemo che non sei altro. Le parti non sono mica uguali. Oh, santo cielo, sono desolato. Si scusò umilmente l'asino. Vediamo se posso rimediare. Ecco, basta un morsetto qui. E già masticava tutto un cornicione di pasta frolla. E un morsettino qui. E dovremmo essere a posto. I gatti scrutavano sempre più da vicino le parti divise. Perché, a due drittoni come loro, non la si poteva mica dare a bere. Asinello che non sei altro, gli dissero con sufficienza. Sei proprio una testa di legno. Non a caso ragli e non miagoli. Questi pezzi sono peggio di prima. E ridacchiarono tra loro della stupidità dell'asino, il quale era sempre più desolato. Perbacco, amici miei. Non so come scusarmi. sono proprio un disastro. Ma lasciate che rimedi. Ecco, secondo me una morsicatina qui e una addentatina là, disse col fiato corto, tanto da masticare. E senza dubbio, ora siete pari. I gatti si ritrovarono così davanti alla tortiera completamente vuota. Non c'era più nemmeno una briciola. Sempre con un sorriso furbetto sul muso, uno dei due disse all'altro, dandogli di gomito. Hai visto? È stato fin troppo facile fregare questo qua. Non farà più tanto il sapientone, ora che non gli è rimasto più niente da dividere.